Bella ragazzi prima del video mi raccomando c'è un giveaway potrete vincere grazie a Istan Gaming un gioco a vostra scelta il link lo trovate ovviamente in descrizione e una volta scelto il vostro gioco ragazzi potrete anche ottenere delle chance in più semplicemente seguendo i passaggi che ci sono sotto mi raccomando ragazzi non perdete questa occasione e provate a vincere anche voi il vostro gioco preferito wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi avete già visto c'erano le cose aperte parleremo di un sacco di roba interessantissima riguardante i prossimi giorni di fortnite ragazzi mamma mia siamo sempre anche oggi in collaborazioni con gli amici di fortnite italy gruppo telegram che vi invito ad andare a seguire il numero uno in italia per le news e le informazioni su fortnite oggi ragazzi parleremo di un nuovo set scoperto sia nei file di gioco che ufficialmente pubblicato e adesso vi dirò vi dirò da chi ragazzi nuovo set leggendario tratteremo anche ragazzi del backpack rimosso forse ve ne sarete dimenticati ma vi farò vedere un video che vi parla di un backpack che tutti volevamo avere un argomento di qualche mese fa e ovviamente ragazzi non mancherà il consueto numero di leaks che vi permetteranno di rimanere aggiornati su tutto quello che sta succedendo mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su raga dai che lo so che ce la fate iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video di fortnite ma prima ragazzi lo sapete prima ragazzi la domanda ve la devo fare mi raccomando i vostri commenti qui sotto li leggo eh va che li leggo quale tra le due skin preferite ieri ragazzi è uscita maven nello shop che va praticamente a completare il set ovviamente è la controparte femminile della skin del nerd ottenibile con il ps plus voi quale preferite dei due ragazzi ditemi un po personalmente lui mi fa ridere mi piace molto molto di più lei almeno un suo stile più interessante ma quindi ragazzi ciancio le bande e bando le ciance andiamo subito a parlare sbadan del backpack rimosso di cui vi ho parlato pochi secondi fa questo è un tweet ufficiale di un leakers molto famoso che dice ve lo traduco dalla patch 7.10 quindi quella che è arrivata all'inizio delle vacanze di natale è stato completamente rimosso il backpack che si chiamava storm tracker che era stato inserito nella patch 4.2 ragazzi questo che cosa vuol dire vuol dire per i vecchioni che si ricordano che purtroppo sembra essere caduto in questo momento in secondo piano la possibilità di inserire degli oggetti che siano interattivi con la mappa mi spiego meglio mi spiego meglio voglio farvi vedere un video ragazzi di tanto tempo fa questo sopra di me è nick e h30 lo conoscerete sicuramente c'è stato un bug per un giorno come vedete ragazzi è ice of the storm tracker questo ragazzi è un oggetto che una volta preso anche lui non sa che cos'è una volta preso si inseriva nella lista degli oggetti come vedete lui al penultimo oggetto a questo zaino che in realtà non è uno zaino è semplicemente un oggetto che occupa uno slot lui non sa come si usa perché lo potevi comunque tenere in mano in realtà era in preparazione quindi non era giusto che sarebbe dovuto essere nel gioco adesso lui si killa la persona e per chi non lo sapesse aspetta che si killa il tizio molto velocemente tanto nick non ha problemi a killarsi la gente addirittura ancora erano trasparenti i muri quando andavi a come si dice a modificare e lui dice che cavolo fa questo coso la gente in chat gli dice guarda la mappa e infatti ragazzi l'ice of the storm ti permetteva di vedere i cerchi nella mappa in sequenza quando lui lo toglie come vedete ragazzi lui non ci riesce a credere ed era interessantissimo come oggetto purtroppo ragazzi potrebbe essere quello che vi ho detto un chiaro esempio del fatto che non verranno probabilmente più rilassati questi progetti ma non è un problema ragazzi andiamo avanti e parliamo di un'altra cosa interessantissima parlando di cose ancora non rilasciate abbiamo tre nuovi balli che ancora non abbiamo visto ragazzi il knee slapper ballo che sappiamo essere di rarità rara ne abbiamo un altro che è il lazy shuffle che anche questo se andate a cercare lo trovate in realtà ma non sono ancora stati rilasciati e il sheer up ragazzi tre balli di cui due rari e uno epico ancora non presenti nei file di gioco pubblicamente cioè presenti nei file ma non rilasciati pubblicamente staremo ovviamente a vedere quando arriveranno per tutti e parliamo ragazzi dell'argomento più interessante del video quello di cui vi ho anticipato nel titolo il nuovo set leggendario non si sa ancora molto ma sulla pagina twitter ufficiale del walmart per chi non sa che cos'è il walmart è una catena di supermercati americana molto come si dice affiliata a epic games hanno creato degli spray personalizzati hanno creato degli oggetti a tema di fortnite quindi giocattoli zaini articoli da cancelleria e adesso ragazzi c'è questo nuovo bundle che si può sembrerebbe già acquistare al prezzo di 25 dollari che si chiama street ops che contiene oltre alla skin il backpack anche deltaplano e piccone voglio farvi vedere una cosa qua dovete star pronti eh raga qua ci teniamo proprio mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo guardate un po ragazzi pronti chiedo scusa agli amici di fortnite italy chiudo un secondo il loro logo questo ragazzi è il bundle la skin che possa sembra essere ufficiale perché vi dico sembra essere ufficiale per la particolarità nei dettagli non è un concept questo ragazzi come vedete l'hanno davvero fatta bene e il backpack è molto simile a quello che già conosciamo essere parte se non ricordo male di uno di uno dei set del twitch prime adesso qua mi dovete dare una mano perché non lo ricordo skin parecchio interessante come vedete il logo della real engine sullo zaino staremo a vedere che cosa succede non sappiamo se sia disponibile per tutta l'europa non sappiamo se sia solo un'esclusiva di walmart ne so quanto voi quindi io ve lo faccio vedere appena ne so qualcosa in più ovviamente ragazzi sarete i primi a saperlo ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di un'altra particolarità una curiosità che effettivamente non ci eravamo accorti fosse successa questa che vedete ragazzi è ovviamente la skin del calciatore la la conoscete benissimo se guardate lui ha il logo nella maglietta classico logo nella skin base ma ragazzi da questa patch sulla skin della calciatrice è stato rimosso il logo non sappiamo perché potrebbe magari centrare con la storia non credo è una curiosità che ci tenevo a dirvi ragazzi e che chi lo sa sicuramente potrà avere un senso nei prossimi giorni parliamo dell'ultimo argomento ragazzi che è il fuoco amico o meglio le opzioni nel playground quindi nel parco giochi della velocità che possiamo incrementare e del nostro personaggio e anche dell'opzione per il friendly fire quindi se giochiamo in team con i nostri amici la possibilità di poter danneggiare i nostri amici o addirittura a killarli con i nostri colpi momentaneamente queste due opzioni non sono più sono ancora nei file ma non sono mai state abilitate nel parco giochi e quindi ragazzi non sappiamo se per come abbiamo visto prima il vecchio backpack dello skin tracker saranno in un futuro disponibili oppure solamente un'illusione beh ragazzi io spero che anche per oggi le notizie vi siano piaciute vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto ciao 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 ciao